Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al Cova di Weaver. Io sono Stefano e in questo video vi mostro un mazzo che ho più o meno inventato io. Sì, direi di sì, perché questo è un mazzo basato su Tod's Cruel EX, che devo dire sta avendo abbastanza successo di recente. Viene giocato con Hoggerpone EX per senare l'energia erba, però io ho voluto modificarlo un pochettino e inserire anche gli altri Hoggerpone. Avevo forse preso spunto da una lista che avevo visto online, modificandolo un bel po', e devo dire che questo mazzo mi ha sorpreso, perché è molto interessante, è forte ed è molto versatile e vi consiglio assolutamente di provarlo. E adesso vi spiego questo mazzo molto particolare. Allora, l'attaccante principale del mazzo è Tod's Cruel, che ha un'abilità con cui previeni tutti gli effetti degli attacchi usati da Pokémon nel tuo avversario inflitti ai Pokémon tuoi che hanno energie assegnate. Cosa vuol dire? Che se tu metti un'energia su ognuno dei tuoi Pokémon, Sebole non può metterti danni. L'unore urgente non può usare il suo attacco con cui ti mette KO, previeni davvero un sacco di effetti e è un'abilità molto molto interessante. Già solo per questo Tod's Cruel è forte. L'attacco fa 80 danni più 40 per ogni tuo Pokémon in panchina con delle energie erba assegnate. Ne abbiamo Hoggerpone, con Hoggerpone possiamo assegnare un'energia erba e pescare una carta. Ci riempiamo la panchina di Hoggerpone, spostiamo le energie sui Pokémon diversi da Hoggerpone con lo scambio di energia. In un attimo possiamo arrivare a fare 280 danni con Tod's Cruel. Quindi Tod's Cruel e Hoggerpone è una combo assolutamente ottima. Hoggerpone è proprio il Pokémon di cui va bisogno Tod's Cruel per diventare forte. Però il mazzo non finisce qui, perché se no sarebbe solamente un mazzo Tod's Cruel e Hoggerpone, che sarebbe comunque fortissimo. Però mi sono detto, ma anche perché ho visto una lista online che mi aveva incuriosito e che mi ha dato un po' questa ispirazione. Già giochiamo tante energie erba, giochiamo tanti scambi di energia. Quella lista lì giocava anche un paio di energie luminose, infatti vedete che ne ho messe 3. Perché a questo punto non approfittare del fatto che abbiamo un attaccante grosso che però fa soltanto danni per inserire degli attaccanti un po' più particolari? E quindi ho messo Hoggerpone Maschera Fondamenta, che fa 140 danni. Sono danni tra l'altro che possono attaccare qualsiasi Pokémon, anche per esempio Mimikyu, e questo può tornare utile. E con la sua abilità previeni tutti i danni degli attacchi inflitti a questo Pokémon, dai Pokémon del tuo Versaure che hanno un'abilità. Quindi, cioè, quanto c'è altri mazzi? Quanto c'è un Pao? E c'è un Pao come fa ad attaccare questo Hoggerpone? A tutti i Pokémon che hanno abilità. Anche Charizard è in grossissima difficoltà. Anche Regidrago, tra l'altro, c'è davvero tantissimi mazzi forti da adesso. Solamente se li metti in gioco questo Hoggerpone dicono Ah, ok, adesso cosa faccio? E non il modo migliore per settare questo Hoggerpone è o con gli scambi di energia dagli altri Hoggerpone prendiamo l'energia erba e asseniamo l'energia luminosa oppure utilizzando la maschera dell'orco che ci permette semplicemente di switchare un Pokémon X che si chiama Hoggerpone negli scarti con un Pokémon che si chiama Hoggerpone e che sia X che abbiamo in gioco. C'è la specifica di Pokémon X perché c'è un Hoggerpone che non è X quello quindi a quanto pare non si può utilizzare con questa carta però quindi tu puoi semplicemente caricare due energie facilmente su un Hoggerpone erba e avrai quasi sempre un Hoggerpone erba con due energie assegnate maschera dell'orco, assegni energia luminosa e sei pronto per attaccare così dal nulla hai settato questo Hoggerpone che è molto forte l'altro Hoggerpone che giochiamo è Hoggerpone maschera pozzo primo attacco fa 20 danni e non fa ritirare il Pokémon attivo dall'avversario che è un attacco che può tornare utile in alcune situazioni può ribaltare delle partite l'attacco pompa torrenziale fa 100 danni se vuoi rimischi 3 energie nel mazzo di quella assenata a questo Pokémon e fai 120 danni un Pokémon in panchina dall'avversario praticamente fai l'attacco di Greeninja lucente ma ancora più forte e anche questo lo carichi con grandissima facilità quindi se vogliamo fare degli attacchi grossi attacchiamo con Todd Scruel contro certi matchup ci viene utile questo Hoggerpone per fare danni in panchina possiamo usare questo Hoggerpone a volte Mewex ha un attacco che comunque può essere molto interessante perché ci permette di copiare un attacco dall'avversario in questa partita lo userò a un certo punto e comunque qui è dentro per l'abilità perché ci fa pescare fino a avere 3 carte in mano ed è molto utile anche lo stesso Hoggerpone comunque è un buon attaccante perché si carica da solo, fa dei danni interessanti quindi è molto forte anche lui e l'ultimo Pokémon è Mankidori che è comodo perché abbiamo già le energie luminose e visto che noi facciamo 280 danni come danno massimo con Todd Scruel 280 per un pelo non ci vanno a mettere capo al Pokémon X fase 2 grazie a Mankidori possiamo riuscire a spostare un po' i danni che può tornare utile contro vari mazzi mi viene in mente anche Dragapult e in alcuni casi è veramente interessante fare questi 30 danni in più per quanto riguarda le carte allenatore non c'è moltissimo da dire in questo caso abbiamo 3 check academic e 3 chissara come peschini una decretazione esperta che è un esperimento ma mi piace tantissimo quindi potrei mettere anche di più in un mazzo con Hoggerpone è troppo forte decretazione esperta se tu hai in mano 2 energie erba decretazione esperta vuol dire pesca le 2 carte che vuoi pescare fortissima un paio di boss 2 Lost Asones perché è importante riempirsi la panchina in fretta visto che vogliamo avere tanti Pokémon con tante energie cioè con un'energia ciascuno il set pigliamosche che ci fa prendere sia i Pokémon erba che le energie erba quindi è comodo in questo mazzo in cui oltre a Hoggerpone ci sono più energie rispetto alle alte mazze Hoggerpone come Regidrago ma anche tutta la linea Todscrewel quindi molto forte comunque 4 Minor Ball 2 Ultra Ball utili anche per scartare gli Hoggerpone per utilizzare la maschera dell'Orco Anfora Terrestre a prendere energie e per scartare gli Hoggerpone ovviamente scambio di energia un Super Amo perché è sempre utile in questi mazzi che comunque scartano molte risorse e una Paisable perché abbiamo i vari Hoggerpone in monocopia ma anche magari quella volta che vuoi giocare 4 Hoggerpone erba per mettere in gioco tante energie ragazzi devo dire che questo mazzo mi ha sorpreso io ho già giocato le partite quando giro la spiegazione della lista è sempre dove aver giocato le partite devo dire che mi ha molto sorpreso è super divertente anche perché è molto versatile quindi sono tante cose diverse che puoi fare ogni turno io credo che abbia anche del potenziale competitivo però queste sono le prime partite che ho fatto le vedete adesso in diretta quindi la lista magari va ancora un po' ritoccata e sicuramente alcune cose potevo giocarle meglio perché appunto è un mazzo che sto giocando adesso per la prima volta e non è facilissimo appunto avendo molte scelte da fare ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate secondo me questo mazzo è veramente interessante sono contro Furia Tonante che di certo non è il migliore dei matchup per un mazzo come questo però vediamo con calma intanto è partito con l'attaccante peggiore con cui potesse partire quindi questo per me è positivo vediamo cosa riesco a fare beh direi molto bene qui eh direi molto bene un po' di Pokémon stanno arrivando Tod Scruel è in grado di rimettere K.O. facilmente Furia Tonante è una questione di scambio premi diciamo devo sperare che non faccia un attacco al primo turno quello potrebbe mettermi in difficoltà sì qui prenderei un Mew che comunque va bene anche per pescare il prossimo turno energia luminosa sinceramente la segnerei senza grossi problemi e e basta non starei aspetterei a usare il resto della carta che ho in mano perché comunque la mia partenza è buona non posso lamentarmi ho anche una Kisara per il prossimo turno forse riesco anche a usare il mio prima di usare Kisara mi auguro che il mio avversario non riesca a fare granché con questa partenza di pelle di sabbia in modo tale che io posso avere un turno per settarmi senza essere già sotto di premi perché poi il Totscroll comunque fa 280 runni ogni volta quindi il K.O. lo fa gli Auger Pond non serviranno molto in questo matchup però intanto vediamo sicuramente a prescindere dal massimo avversario io sono partito discretamente quindi il mazzo che sto giocando adesso questa è la prima partita che sto facendo e sicuramente è un buon modo di iniziare la partita cioè vedere che comunque la partenza non è affatto male vediamo questo fa 20 più 70 se ha almeno 3 energie in gioco quindi un attacco che in realtà non è un granché in generale perché sì beh sono 90 runni con un'energia per un Pokémon da un premio però il prezzo da pagare è di avere in gioco almeno 3 energie che in un mazzo come quello è facilissimo normalmente non è proprio una cosa proprio subito facile da fare due pelle di sabbia forse non sto sfidando il mazzo che penso o forse è un mazzo molto tecciato in questo momento sono in Lega Deoxys che adesso hanno rinnovato lo Scala Sfide che non si chiama Scala Sfide ma non mi sono ancora abituato alla terminologia nuova e quindi sono sceso di qualche punto perché prima ero in Lega Arceus e adesso vediamo in Lega Deoxys se riusciamo a farci valere beh sembra di sì sicuramente allora come ce la giochiamo qua a livello proprio anche di sequencing io direi che metterò a cappò questo pel di sabbia con Tod Scruel o addirittura con Oggerpond quindi quasi quasi faccio proprio la scelta più safe più tranquilla in assoluto che è lo scambio di energia qua e devo soltanto pescare un'energia con Kisara mi scoccio usare Kisara che lui comunque non ha avuto una bella partenza però è importante che io riesca adesso a mettere pressione ok direi che le energie ci sono in grandissima abbondanza questa cosa è importante quindi iniziamo subito energia pesco uno scambio di energia che vorrei sinceramente evitare di scartare posso scartare cerca accademica perché tanto ne ho due un'energia la assegno qua poi una manualmente cercherò di assegnare la Tod Scruel o anche a Mew in realtà meglio Tod Scruel per ora Mankidori non è affatto male anche se contro questo mazzo sinceramente non penso che riuscirò a utilizzarlo quindi magari per ora questa energia l'assegno qua che mi va benissimo e aspetto a fare altro sto per fare 240 danni a questo Pelle di Sabbia che è da Pellezza Erba sicuramente questo non è il modo in cui dovrei giocare questo mazzo potevo tranquillamente ritirare Oggerpony e attaccare con Tod Scruel sarei riuscito a fare 80 120 160 200 allora sì 200 200 danni sto pensando no perché ho fatto uno scambio di energia prima 240 danni avrei fatto 240 danni in questo turno perché non avrei fatto scambio di energia su Oggerpony quindi se avrei fatto 240 danni tanto il mio avversario sembra che abbia avuto una buona mano speriamo che non riesca a mettermi capo a questo Oggerpony ma se anche dovesse secondo me non è automatico ma dovrei riuscire a rispondere al K.O. su quel furia tonante tanto vediamo sicuramente la chissara che gli ho fatto era eccezionale per lui mamma mia gli ho scelto io le carte praticamente manca solo l'energia lampo e volendo un Oggerpony per trovarla se lo avessi missario sono tra non ci posso credere che mano gli ho dato ragazzi che mano gli ho dato allora cosa devo fare adesso io per riuscire a metterlo K.O. io faccio 80 danni 120 60 200 140 devo mettere in panchina 4 Pokémon con delle energie per fare il K.O. al momento ne ho 1 che facilmente diventano 2 3 con l'energia della mano potenzialmente 4 in base a cosa trovo con set pigliamosche quindi vediamo è assolutamente fattibile rispondere al K.O. però diciamo che non mi aspettavo un secondo turno aveva in gioco un Oggerpony basta inizio turno guardate adesso bene meglio vuol dire che sarà più combattuta questa partita perché come era iniziata sembrava che stessi giocando da solo mentre così devo dire che la partita si fa interessante no però secondo me ce la faccio fare il K.O. secondo me ci riesco è la prima partita che faccio con il mazzo quindi magari sto sopravvalutando questo mazzo ma secondo me no secondo me adesso facciamo un bel turno questa carta non mi serve io direi che posso non so se vorrei togliere subito l'energia oppure no perché vorrei trovare dei Pokémon col set pigliamosche però se non le trovo rischio di scartare delle energie importanti allora facciamo così Anfora terrestre su Todscrew e le prendo due energie erva perché una la posso comunque assegnare a Ogreppone no prima uso il set pigliamosche no prima uso Ogreppone perché tanto questa energia extra la devo spostare quindi vedo una carta decrittazione esperta ok Todscrew va benissimo l'energia extra mi serve prenderla una dalla mano non sono sicurissimo allora facciamo così gioco Todscool sicuramente gioco anche Manchidori posso spostare un'energia su questo Mew assegnare un'energia qua ok con decrittazione esperta allora se io ora ritiro devo pescare un Ogreppone mi metto in cima l'ammazzo Ogreppone metto in cima l'ammazzo Ogreppone e lo pesco con Mew quindi Ogreppone e cos'altro potrebbe essermi utile che poi è la carta che pescherò con Ogreppone in realtà niente non c'è niente che mi serve forse no non c'è niente che mi serve allora posso mettere in cima il mazzo oh mamma mia magari un boss nel prossimo turno ok pesco una carta con Mew attenzione la carta è proprio Ogreppone gioco Ogreppone asseno questa energia che ho preso prima pesco il boss per dopo perfetto Todd Scruel facciamo esattamente 240 danni ragazzi vi devo dire la verità io in questo momento sono molto gasato sono davvero molto gasato che premi tra l'altro interessante decisamente interessante prima ho pescato un premio su un Pokémon da un premio appunto e quell'attacco non mi serviva nulla quindi io posso ancora perdere ecco attenzione 290 punti salute io non posso superare quei danni a meno di utilizzare Manchidori ma il suo mazzo si basa sul mettermi K-O ad un attacco quindi vediamo è anche vero che ha 4 carte in mano e che non è proprio detto che riesca subito a fare un K-O adesso dopo il turno che ho avuto prima però ecco no io al momento a causa di quella di quella tool sono un po' in difficoltà infatti l'aspiratore perduto è una carta che ci può stare in questo mazzo però secondo me non è indispensabile no ecco l'alternativa no perché Ogre Ponacqua fa 120 al Pokémon attivo quindi non posso neanche fare tipo boss su Greninja K-O questo dopo aver danneggiato Furia Tonante vediamo se fa il K-O adesso potrebbe essere un problema beh potrei in realtà copiare il suo attacco con Mewex è vero però più come attacco finale diciamo perché poi resto senza energie in gioco sì quella è l'ultima opzione che mi resta scartando 5 energie ne ho 4 in gioco 5 con questa trovo uno scambio di energia e sono a posto non so perché decritazione esperta non venga giocata di più nei mazzi con Ogre Pon perché è fortissima tra Ogre Pon Mew volendo si può giocare anche Greninja anche Poké Stop volendo energia lotta ce l'hai però la Olim no dai non hai tutto anche stavolta il copio di energia però l'energie l'ha segnata manualmente questa qua lotta non l'ha fatto Olim giusto esatto 2 energie lampo ah ne è comunque una negli scarti eh vediamo se non ha Olim sono tranquillo timbro ingiusto 6 carte fresche fresche per il mio avversario e solo 2 per me anche molto brutte tra l'altro Pesoball ai 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 timbro giusto mi ha dato fastidio ok blocco amici quindi ti trovi Olim per dopo però non ce l'hai adesso vero io non ho più il boss no l'ha trovata l'ha trovata oh mamma mia e ora fa pure blocco amici se la rimischia nel mazzo avrà 4 Olim in 14 carte e io ho una mano terribile devo fare l'attacco di Mew adesso che però ha 180 punti salute va a K-O con Pell di sabbia vediamo anche un po' quali energie scarta adesso perché lui è in gioco quanti energie ha in gioco mamma mia bisogna capire quali energie scarta adesso perché Pell di sabbia rimane un ottimo attaccante in realtà anche Ogre può essere un ottimo attaccante contro Mew è solo in difficoltà mi sa che mi sa che perdo il prossimo turno mi sa che riesco a fare un K-O adesso ma poi non riesco a a chiudere la partita vediamo che energie scarta io spero che la lasci su furia tonante ok ah no vedi che Pell di sabbia lo sta calcolando come attaccante ah però aspetta Mew resiste quindi per 10 danni non fa il K-O Mew resiste è vero vediamo se riesco a fare il K-O Anfora terrestre non è male anche perché almeno posso scartare questa carta che avrei evitato volentieri di usare due energie ok Minidroble continuiamo a sfoltire il mazzo posso prendere Todd School tanto per giusto per togliere carte dal mazzo ok e direi che posso assegnare un'energia a un Hoggerpond posso assegnarne un'altra a un altro Hoggerpond usiamo la peso ma non mi sembrava ah beh c'era un Hoggerpond ok ok posso assegnare questa energia qua pescare tre carte mi serve uno scambio di energia trovato trovato quindi questa la spostiamo qua volendo avrei anche il boss ma non mi serve sto pensando se il Pokestop può essermi utile a qualcosa con questa mano e considerando no se subisco il K-O su un Mew ho perso Mega Recupero può servirmi a qualcosa no Pokestop mi resta un solo Todd Screw e lo rischio di scartarlo però ho il Super Amo mi servono carte d'aiuto che carta strumento potrei trovare di utile il set pigliamosche e basta potrei trovare un set pigliamosche no io aspetto non me la sento allora copiamo l'attacco di Furia Tonante e scarto sicuramente queste energie qua ne scarto un paio anche da qua forse ah si è meglio scartarle da Mew forse esatto cosa meno non fa il K-O ok 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 K-O ah ovviamente lui ha mille carte in mano potrebbe fare boss però in realtà boss su chi lo fa non c'è neanche un po' come la due premi che va a K-O con due cioè con 200 danni questo fa 200 danni cioè 180 170 a Mew ovviamente se 7 è un Furia Tonante vince naturalmente e ha un sacco di carte in mano se non lo setta non è affatto scontato che io vinco al prossimo turno ma neanche lontanamente però sicuramente resto in partita e ce n'entra a fare quando ci si sfida tra mazzi da due premi chi riesce a fare tre attacchi ha un grosso vantaggio per vincere la partita io anche se ho attaccato per primo è stato un attacco che non è servito a niente assolutamente a niente se giocassi tipo Charizard Lucente e avessi fatto attacco di Charizard Lucente adesso magari facendo Kissara a pare che non facevo il K-O perché c'era la tool assegnata però potevo provare a recuperare un po' perché li bloccavo davanti un po' come andò a un premio non è male Charizard Lucente in questo mazzo avendo già le energie luminose in realtà ok recupero di energia allora la Sada l'ha usato prima non ho solo blocco amici come mai non l'ha usato che strano allora cosa faccio il prossimo turno se lui ora non vince lo so anche perché sono senza energia in gioco e sono tutte negli scarti 9 più 1 è qua resta una sola energia luminosa nel mazzo io farei 30 60 90 120 150 180 se dovesse caricare con 3 energie un Ogre Pong facendo boss lo metto K-O con Mew però devo così vederne di carte per fare questa giocata nemmeno mettere K-O Greninja è una cosa fattibile visto che non ci sono attacchi interessanti da copiare è un po' complicato perché allora con Toad Scroll posso fare 120 danni in questo momento perché c'è l'energia su Mew e per 10 danni non metto K-O Greninja che il boss comunque ce l'avrei dipende un po' quello che pesco il recupero di energia tra l'altro nel mazzo dovrebbe esserci adesso non ho controllato mi sembra averlo intravisto prima ma non ci ho fatto caso però anche quella è una bella opzione poi devo naturalmente trovare l'ultimo Toad Scroll perché sono inutile ecco Furetonante vediamo se riesce a caricarlo vediamo eh energia lotta ce l'avrà in mano oh mamma mia fa tutti i danni che vuole niente come non detto non so perché ci ha messo così tanto perché comunque aveva una mano enorme quindi doveva fare questa giocata che era anche piuttosto ce me l'aspettavo però dai nel senso abbiamo tenuto testa a un mazzo Furetonante uno dei migliori del momento e di certo non è uno dei mazzi migliori a livello di matchup per questo mazzo qua devo dire che sono soddisfatto per la stessa dalla prima partita niente male se hai già pronto il mazzo regidrago o comunque un qualunque mazzo con hoggerpon ti mancano praticamente soli Toad Screwel e magari un paio di hoggerpon per completare questo mazzo se ti mancano queste carte ti consiglio di acquistarle su fantasia store se usi corci sconto wevel 5 avrai anche uno sconto del 5% allora comincio io e il mio avversario intanto mi ha già bloccato l'abilità di Mew ma questa cosa sinceramente mi interessa solo fino a un certo punto secondo Toad School va bene set pigliamosche direi che va bene anche questo doppia energia ci sta direi che posso assegnare un'energia erba normale a Toad School no lo aiuto dai lo sto aiutando per niente l'unica carta interessante che posso prendere con lo stasone sarebbe Mankidori che ho anche l'energia luminosa ma a questo punto lo faccio al prossimo turno giocare lo stasone adesso vuol dire veramente fagli prendere o un ralz o un luna ruggente o qualunque sia il mazzo che sta giocando quindi davvero non vedo perché avvantaggiarlo inutilmente qui a quanto pare siamo contro un ruggente che ha trovato il primo turno la scatola dei segreti scarta tre carte dalla mano e si prende di tutto vediamo cosa si prende però fa sicuramente un'ottima partenza tra l'altro Mewex debolezza buio e 70 80 90 ecco praticamente mi sta già per mettere KO Mewex al primo turno che non è il massimo non è assolutamente il massimo vediamo cosa riesco inventarmi io quanti punti salute hanno acqua e crespe 130 ok poche stop ha trovato un ultra ball quindi altre carte da scartare però gli fa trovare una d'urgente se dovesse mancargli come non detto la minor ball greninja l'avversario si è avuto una partenza ottima chiaramente scatola dei segreti è l'aggiunta migliore del nuovo set per questo mazzo che al momento come match up non sta andando proprio benissimo però sicuramente migliorato grazie grazie a questa carta qui sta scartando una quantità di carte impressionante ora userà Olim vediamo se ha un'energia in mano però perché ce ne sono no vabbè solamente due ne ha usate vediamo se se missassero l'energia sarei molto contento però forse non la sta missando vediamo ce l'ha ce l'ha quindi partenza davvero eccezionale per il mio avversario che non ha missato assolutamente niente non ha missato niente ha pure già rimischiato le Olim quindi un bellissimo esempio di quanto di quanto è forte questo mazzo di che cosa può fare questo mazzo al primo turno ovviamente è stata una partenza molto fortunata non è una partenza standard questa però è assolutamente una cosa fattibile ok intanto io ho pescato forse la carta migliore che potessi pescare in questo momento quindi bene così la carta migliore sarebbe stata Toad Scruel però va bene lo stesso e asseniamo un'energia adesso a me interessa fare il KO un'energia magari assegniamo l'energia luminosa davanti e lo Stasones non voglio usare no anche perché lo userei tantissimo con lo Stasones perfetto 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 ci siamo ottimo allora Mankidori in realtà è importantissimo questo matchup in questo matchup fa veramente comodo Mineral Ball io direi di prendere un altro Oggerpond intanto ho in mano entrambe le maschere quindi vediamo se riuscirò a utilizzarne qualcuna in questa partita non lo so sinceramente beh intanto evolviamo anche questo non vedo perché no non uso il Pokestop per ora sono tranquillo sto facendo 320 danni non subirò un KO al prossimo turno non è nemmeno detto che verrò attaccato al prossimo turno perché il mio avversario adesso deve trovare un attaccante trovare Sada trovare un'energia ha solo 4 carte in mano fattibile però non assolutamente ovvia come cosa la cosa che è interessante che io posso fare è utilizzare la maschera dell'orco per prendere Oggerpond acqua e utilizzare Mankidori per sparpagliare qualche danno e fare i KO in panchina c'è un Crinelato c'è Green Ninja due premi sono abbastanza facili da fare il mio avversario con poche stop ha appena trovato Minerable e Pokegear sono esattamente le carte che gli danno quello che gli serve per attaccare quindi stiamo belli attenti perché qui abbiamo una partita che sarà molto impegnativa anche questa vediamo Ultra Ball vediamo cosa scarta il KO ha scartato un Pokegear quindi vuol dire che ha già in mano Olim perché non scarsi il Pokegear se è certo ce l'aveva già ce l'aveva già attenzione sta caricando dietro quindi mi sta regalando un premio rinunciando a un attacco per prepararsi magari un attacco più grosso dopo ok 3 4 5 6 7 8 9 10 siamo 170 danni allora io cosa posso fare di bello qua quella giocata migliore che posso fare secondo me è semplicemente fare il KO in realtà un allora ora siamo alla Paisable posso prendere un Oggerpon ok lo superamo è lì sto pensando se non è il caso di prendere un Tod School perché ho anche la canna rapesca nei premi però no se vengono messi KO due Tod School perdo la partita quindi magari prendo un Oggerpon che sono tutti i modi in più per pescare e io sto pensando seriamente di usare Pokestop per scartarmi gli Oggerpon anche no dai facciamo così allora scarto una maschera perché tanto me ne servirà una in questa partita non di più posso sicuramente mettere una seconda energia su un Oggerpon che è quello che poi trasformerò se ci sarà bisogno energia luminosa molto bene lo usiamo il Pokestop no dai è una pessima idea aspetto l'assegnare ah forse non ha voluto attaccare perché ha visto Manchidori chi lo sa dai sei in un'energia perché vorrei pescare qualcosina Anfora terrestre non è male però ancora non ci siamo a questo punto il Pokestop lo uso e basta visto che ho tutto il turno che ci sto pensando usiamolo che forte allora perfetto tiriamo fuori un po' di carte dal mazzo posso sicuramente pensare di sfoltire il mazzo prendendo un po' di energie e mettendone un po' in gioco doi un'abbondanza quindi posso sia caricare gli ogre e poi preparare Todd Scruel il secondo che va benissimo mega recupero può tornare utile sicuramente questa l'assegno qua e non ho altro da fare in questo momento dai faccio i miei 240 danni non mi aspetto di subire un K al prossimo turno sarei sorpreso se dovessi vedere che mi mette capo al prossimo turno ma vediamo l'ogre può un'acqua se non sbaglio fa 120 al pokemon attivo e 100 in panchina quindi in realtà avendo messo capo questo crinerato potrebbe non servire più però dipende appunto anche il mio avversario se mi danneggio oppure no perché se mi danneggio mi permette di utilizzare manchi d'ori e quindi cambia tutto ok ti sei scartato una Sada ora ne hai due negli scarti vediamo quante volte riuscirai a fare ancora Sada ogni turno anche perché il blocco amici l'ha usato esploratore ok quindi scarterà un bel po' di risorse potrebbe quindi fare il K.O. adesso dipende quante cose trova lui in realtà sa bene che in due attacchi può vincere la partita adesso quindi non aveva fretta di fare quell'attacco prima e di farsi mettere K.O. luna ruggente questi sono i due attaccanti con cui può chiudere la partita può fare un attacco adesso e uno al prossimo turno però sì bello avrà un carretto riscambio penso questo Greninjera un po' a ritirarlo adesso perché se segna qua non può segnare qua canna da pesca vediamo cosa che rimischia energie prevalentemente ma anche un luna ruggente minoblo per prendersi penso qua è luna ruggente un po' a ritirarlo un po' a ritirarlo non sto a contare quante carte negli scarti perché ora sono tante quindi o fa il K.O. o per rompere non lo fa il punto è avrà il carretto riscambio per fare l'attacco barra K.O. perché se ce l'ha e fa il K.O. vediamo ok no comunque è messo benissimo è comunque messo benissimo perché ribassano due attacchi per vincere devo farne quattro e non ho modo di attaccare con Pokémon da un premio per pescare i premi adesso e anche pensare di fare due attacchi di Ogre Pond con l'Ogre Pond Acqua non funzionerebbe non funzionerebbe a parte che non potrei perché ho solamente una maschera ma comunque non funzionerebbe attaccare con Mankidori no no aspetta aspetta un secondo fammi ragionare sto pensando a quello che devo fare perché io vorrei un boss adesso sinceramente non sarebbe male trovare un boss però la nemica semplice è pescare un boss così non ne gioco neanche 10.000 qua dove è il boss che volevo vorrei tanto un boss vorrei tanto un boss come posso fare allora tu intanto qua al K.O. lo fai 5 6 7 8 10 13 15 a 220 non lo fa ancora il K.O. in realtà però io vorrei davvero tanto un boss e non mi ricordo se ho altre energie acqua e acqua erba nel mazzo comunque guardo il mazzo a prescindere ho entrambi i boss vedi e tanti scambi di energia allora facciamo una bella cosa facciamo una bella cosa mega recupero su quello che ho già usato e qua posso segnare altre energie almeno vedo due carte magari trovo il boss non è non è non è semplice perché comunque pesco una carta per volta però magari chi lo sa come non detto peccato 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 sto pensando gli altri Ogre Pon ma no non servono a niente energia luminosa magari una la posso assegnare mettiamola su manchi d'ori giusto perché metti che non fa il K al prossimo turno ho sempre questa opzione decretazione esperta a questo punto la uso così riuscito cosa pescare che immagino sia il boss no in realtà forse chissare è meglio pescare no chissare è ancora meglio e poi boss cos'è meno me lo pesco subito ok facciamo questo KO allora lui potrebbe comunque avere anche un Contrachiappa Pokémon adesso che che c'è questa differenza di premi anche questo in realtà è un matchup difficile perché io gioco un po' un mazzo da due premi e lui da un premio ma che picca forte con un Pokémon da due premi quindi anche questo matchup non è il massimo però vediamo vediamo se comunque si riesce a vincere Contrachiappa Pokémon ce l'ha quindi un KO lo fa al 99% qui siamo a 6-7 ha fatto Sada adesso quindi non sarà niente Chissara Chissara non servirà a niente quindi se ora fa il KO ha vinto la partita perché non posso impedirgli di non fare il KO con quella luna ruggente è proprio matematico l'unica cosa sarebbe settare Ogre Ponacqua facendo boss su questo e fare due attacchi di fila però vuol dire che lui non deve neanche trovare un'energia cioè non funziona Anfora Terrestre ecco l'energia di cui stavo parlando poco fa Energia Buio che scarta una carta nel mazzo recupero di energia così se la recupera ha scartato un sacco di carte quindi il KO adesso lo fa con grandissima tranquillità ha caricato il terzo luna ruggente sono sei energie quel mazzo ne gioca sette se io poi faccio boss su Greninja rischio di vincere la partita magari lasciando Manchi Dory attivo che vale solamente un premio potrebbe avere anche Penny però forse erano gli scarti Penny si Contrachiappa Pokemon ah hai scelto 270 perché l'hai fatto? Ha sbarato a contare 270 ragazzi devo resistere un turno a una carta nel mazzo magari a un super amo in mano che ne so però cioè senz'altro questa è la mossa migliore per me in questo momento io ci devo provare chi lo sa che magari funziona anche sto pensando eh ha senso attaccare fare 60 runni no non direi dubito che vincerò in questo modo eh sarebbe veramente divertente energia per ritirarcela boss e ne discarti Contrachiappa Pokemon l'ha buttato prima ah beh non poteva usarlo adesso no non ci posso credere non ci posso credere allora eh ragazzi la difficoltà principale di Ancient Box secondo me è la gestione delle risorse quindi anche partite come queste in cui lui allora assolutamente il mio avversario ha avuto fortuna perché avete visto il secondo turno che cosa ha fatto e anche i turni successivi quindi ci mancherebbe però per una carta nel mazzo ha perso perché adesso avrebbe attaccato io non avevo più poco ma andava a andare in posizione attiva senza che sarebbero stati messi KO basta avere una sola carta in più nel mazzo e avrebbe vinto la partita è un mazzo veramente in cui la difficoltà è proprio questa perché proprio per il resto non è un mazzo difficile da giocare wow non pensavo proprio di vincerela questa vuoi provare questo mazzo online prima di costruirlo dal vivo ti consiglio ad acquistare i codi su BIPCGL Codes ricorda che avrai anche uno sconto del 5% se scrivi Weaver al momento dell'acquisto siamo contro Lugia con Cincino quindi ancora una volta siamo contro un matchup che non è dei migliori perché io vorrei trovare un mazzo contro cui mi basta giocare di Ogre Pollotta e dire ok ho vinto la partita ce ne sono tanti perché non riesco a trovarli perché non trovo Cienpao Charizard però il mio avversario non è partito bene anzi io potrei vincere il primo turno con una buona partenza allora facciamo così per sfoltire meglio il mazzo inizio a prendere un po' di Pokémon base che animazione c'è stata perché? ma lo fa sempre o a me è la prima volta che vedo qualcosa del genere vabbè vabbè fa niente ma l'ha sempre fatto non me ne sono mai accorto però io non ho mai visto questa animazione vabbè allora mena se riesco a vincere il primo turno è assolutamente possibile mi bastano un po' di energie e uno scambio di energia ringraziami che probabilmente gli sto facendo un favore però potrei vincere adesso io ok ho quasi vinto quasi vediamo beh vedo solo una capa potevo usare la Mineral Ball forse avrei dovuto usarla allora vediamo un attimo vediamo cosa riesco a inventarmi allora devo svuotare la mano e usare Mew in poche parole lo Stasones posso usare il Mega Recupero su un Ogre Pond tanto per oppure pesco due con Mew e poi riutilizzo Mew proprio magari non riesco a pescare tanto beh però in realtà non è malaccio come idea qui posso prendere un altro Totskull devo prendere un Ogre Pond Totskull lo prendevo con lo Stasones vabbè posso farlo lo stesso posso prendere il terzo che comunque ci sta al tipo come base quando mi servono comunque ok peschiamo due carte basta pescare un'energia e ancora una volta non siamo riusciti a giocare Ogre Pond cioè Ogre Pond Erba sì ma gli altri no ragazzi questo mazzo può anche doncare cioè chiamatelo poco abbiamo fatto un'altra vittoria è bello sto mazzo è bello sono contro Regidrago sono contro il mio amato mazzo Regidrago molto bene due Chissara nei premi teniamolo presente contro Regidrago io faccio 280 runni precisi quindi in realtà non mi dispiace il match up potrei anche riuscire a utilizzare Ogre Pond Lotta finalmente qui direi Minorable ci prendiamo un altro Ogre Pond e si dà segno l'energia questa qua vediamo cosa pesco valuto se scartare quello che pesco oppure no mi piace decritazione esperta in questo momento io me la rischio un po' e scarto la canna alla pesca secondo me ci sta come mossa va bene dai va bene allora non solamente il mio avversario potrebbe poi doncarmi a sua volta come io ho fatto poco fa e sarebbe una cosa molto brutta però so bene quanto sia difficile fare questa giocata con i mazzi Ogre Pond cioè finché attacchi con Ogre Pond ancora ancora perché ti basta uno scambio di energia se di attaccare con Regidrago è più difficile di avere un'energia fuoco e fare due scambi di energia puoi sicuramente riuscirci ma non è facile attenzione qui sta addirittura utilizzando Switch su scuocabilli quindi a quanto pare non ci sta neanche pensando a fare questa giocata abbiamo buttato un po' di risorse o sbaglio due boss niente male tra l'altro scuocabilli è molto più semplice da mettere KO rispetto a Regidrago quindi potrebbe essere un bel primo attacco abbastanza semplice da fare al prossimo turno io faccio 80 120 160 io in questo momento con questa mano metto KO scuocabilli e pesco due carte che voglio con decritazione esperta hai scartato il terzo boss hai capito e un po' di attaccanti bravo giochi Ghiratina va bene giocare Ghiratina e anche scuocabilli è una lista simile alla mia quella che sta giocando anfora terrestre immagino energia fuoco ed energia erba sì il prossimo turno io penso di assegnare energia toscruel evolvere cioè evolvere toscruel anfora terrestre scartando la carta che pesco decritazione esperta per Mew e vediamo cosa e poi vediamo ok lui sta caricando già quel Regidrago io devo preoccuparmi di settare in fretta un secondo toscruel perché questo andrà a capo abbastanza facilmente allora anfora terrestre per scartare un'energia erba e prenderne due decritazione esperta per Mew sicuramente e magari lo Stasones così sfoltisco bene il mazzo tolgo due carte dal mazzo in questo modo sì non mi dispiace come cosa sì facciamo così ok assegno un'energia qua oh ho pescato Mew che bella pescata che fortuna e mi servirebbe proprio un Toad School per il prossimo turno quindi speriamo di trovare un modo per prenderlo oh ho trovato lo Stasores che forte prendiamo subito Toad School assegniamo un'energia qua giochiamo Mew e peschiamo tre carte tre carte veramente stupende manchi dori aspetto a giocarlo ma in realtà no lo gioco non c'è motivo per cui non giocarlo e facciamo 160 danni precisi per fare questo KO il prossimo turno mi aspetto di subire un KO e non è scontato che io riesca a rispondere al KO di mio avversario ho tre chissara in mano perché intanto non sarà semplice caricare quel Toad Scruel ma non sarà semplice nemmeno riempire il campo di Pokémon con delle energie assegnate con i 280 danni non sarà semplice farli quindi non cantiamo vittoria troppo in fretta l'avversario comunque è sicuramente partito bene perché comunque vabbè ok che vi l'ho fatto un KO subito però lui come campo da gioco non è messo male ha dovuto scartare tanti boss e secondo me questa cosa potrebbe essere un problema il vantaggio è che avendo il potere viasto di Rigi Drago può recuperarli quindi teniamolo presente io prossimo turno se volessi attaccare con Oggerpon 120 50 80 210 40 70 in realtà io potrei anche fare il KO con Oggerpon mi basterebbe uno scambio di energia l'abilità e energia dalla mano io potrei anche fare il KO con Oggerpon il prossimo turno non so se poi riuscirò a vincere la partita ma tu hai trovato Rigi Drago via Alston no ragazzi vi devo dire che purtroppo capita più spesso di quanto di quanto non si pensi ha tre ultra buone di scarti probabilmente non gioca il cattura Roma perché perché non segue il covo di Weevail che consiglia di giocare il cattura Roma e e quindi adesso ho fatto questo attacco con cui il 99% perde la partita però devo ancora riuscire a fare qualcosa pure io ok se no ce la faccio ce la faccio perché sposto un'energia su questo Mew in questo momento quanto siamo 200 danni quindi quasi quasi assegno questa qui e direi che possiamo in questo momento io faccio 240 danni però posso spostarne 30 sul prossimo Regi Drago ok posso pescare una carta bene è un'ottima carta da pescare e fare i miei 240 danni il ko ora mi aspetto Charles Reducente con cui fare il ko per me non sarà semplice vincere il prossimo turno perché dovrò settare un nuovo attaccante e fare boss in panchina però sono comunque molto in vantaggio gli devo fare un solo attacco per vincere questa partita adesso lui deve farne ancora 3 ecco Regi Drago Viastro l'ho fatto pescare io con Kisara e mi sa che anche stavolta Oggerpond non lo giocheremo né quello Lotta né quello Acqua quello Lotta sarebbe stato interessante resettare però non ce n'è stato proprio stato bisogno sono partito in maniera molto aggressiva e diciamo che se lui avesse iniziato per primo a pescare premi forse sarebbe stato meglio giocarsela di Oggerpond ma avendo cominciato io anch'io sono in grado li metto a K ad un attacco quindi semplicemente basta mantenere il ritmo della partita recupero di energia si prende un sacco di energia quindi adesso userà un po' di Oggerpond caricherà attaccante che vuole non so se proverà a caricare Regi Drago oppure no io sinceramente fossi lui giocarei di Charizard adesso per evitare di esporre un Pokémon a due premi però sicuramente ora grazie a potere di Astro di Regi Drago potrebbe settare un Regi Drago se lo volesse quindi vediamo Dragapult in questo momento è inutile vabbè userebbe comunque Dragapult per fare il KO Kissara attenzione la mia mano non era incredibile ma neanche brutta questa mano è veramente orribile quanti scambi di energia mi restano? tanti quindi potrei anche pensare di giocarlo con l'Ogerpond e l'energia luminosa mi resta una sola e ora stiamo attenti ora stiamo attenti perché la situazione non è semplicissima io tra l'altro mi sono appena reso conto che ho spostato i danni dal Todscrew in panchina dovevo assolutamente spostarli da quello in posizione attiva perché così spostavo 30 danni in più non penso sia un misplay di quelli gravi però sicuramente era meglio evitare energia luminosa eh energia luminosa lo so c'è l'energia luminosa cosa faccio? 140 randi non bastano fare un K-Po su nessun Pokémon se carico Todscrew lui potrebbe fare una bella giocata prendendosi lo Switch e il Boss facendo K-Po Todscrew e non ho più attaccanti forti quindi forse conviene davvero caricare questo Ogerpond forse sì qui sto pensando ho trovato il Boss wow allora facciamo così uso recupero qui per utilizzare un paio di abilità e vedere qualche carta in più il Boss non credo che mi servirà qualcosa adesso forse il prossimo turno questo non serve assolutamente a niente energia qui set pigliamos che non so cosa potrà servirmi però un'energia va sempre bene potrei addirittura mettere attivo questo Ogerpond e vedere lui cosa riesce a inventarsi non lo so non posso fare a nulla quando ritiro ci stavo ripensando proviamo a fare così allora mi ha un po' bloccato con questa chissara anche perché le carte con mano sono un po' inutili e il mio unico motore adesso è Mew quindi anche il prossimo turno non potrò pescare niente di questo passo bisogna capire cosa fa lui adesso perché se non ha modi di attaccare questo Ogerpond dipenderà moltissimo da boss teniamo presente che ha poche carte nel mazzo i boss sono negli scarti e se usa il potere gastro di reggi drago si finisce la carta del mazzo molto presto quindi deve stare super attento anche lui a quello che fa carta su tattico non l'abbiamo ancora vista potrebbe essere il catcher come in moltissime liste scambio di energia a me basta uno scambio di energia anche a me per vincere la partita adesso perché io ho energia in mano e boss quindi mi basta veramente quello bravo che gioco anche Olucia la bellissima lista veramente la bellissima lista vediamo ora cosa fa switch boss KO qua sotto Scruel però dipende se gioco al catcher e se il catcher ce l'ha in mano o nel mazzo piuttosto che nei premi ho visto un boss ma perché non fa vedere le carte che si prendono vabbè un boss l'ha preso di sicuro switch e boss perfetto ok esce di regidrago poteva tranquillamente uscire di Mew vediamo se prende Totscruel innanzitutto penso di sì poteva uscire di Mew attaccare ancora con Charizard in realtà piuttosto che esporre regidrago sì secondo me è sbagliato qua o forse vorrebbe evitare di di bloccarsi davanti con Charizard di nuovo qui assegna un'energia bisogna vedere se ha il catcher io penso che ce l'abbia non si è ancora vista la carta su tattico però se ha preso il boss col potere gastro di regidrago boh qua intanto ho usato l'attacco di Giratina vediamo quali energia è l'hosta perché non è scontato ok ragazzi vi devo dire che sono un po' in difficoltà questa potrebbe essere una bella occasione però come lo faccio il KO allora 120 come danno base 150 180 10 40 70 altri qua no 4 energie non riesco a metterle copiare con Mew non posso copiare niente di forte devo attaccare con Ogre in poche parole però non so se ce la faccio guardiamo il mazzo magari mi sta sfuggendo qualcosa è pur sempre la quarta partita che faccio con questo mazzo quindi magari mi sta sfuggendo davvero qualcosa non mi sta sfuggendo niente non ci sono molte cose che posso fare in generale qui Chissara non sarebbe essere affatto male cavolo di quanto sarebbe forte riuscire a giocare Chissara adesso se pesco una carta con Ogre pone quella carta è Chissara e ho due nel mazzo in 25 carte però qual è la giocata migliore se no 60 ranni e confondo Regidrago però lo ritira devo fare Chissara qua allora asseniamo questa energia tanto ho un sacco di scambi di energia quindi fa niente tesobal ricordiamo cosa ho nei premi boss su Ogre Pond che magari allora due energie erba tre quattro cinque no ce ne sono ancora tre o quattro e se li hai prese prima quindi fare boss non serve a niente Toad's Cruel ne ho altri no oh mamma mia il super amo l'ho già usato non ho più Toad's Cruel se lo scarto questo no devo attaccare con Ogre Pond dai devo attaccare con Ogre Pond devo giocarmela così ho missato lo scambio di energia ho missato lo scambio di energia quindi perdo un turno all'attacco però Chissara per dopo quanto meno potrei usare maschera dell'orco per pescare una carta beh sì assolutamente scambio lo stesso scambio di energia no non lo so ragazzi secondo me sta per arrivare un catcher è proprio lì lo sta aspettando quel catcher lì cavoli non pensavo di perderla questa partita secondo me però in questo caso l'ho persa di misplay eccolo lì l'ho persa di misplay questa secondo me perché secondo me era fattibilissimo secondo me se dovesse riguardare questa partita vedrei il momento preciso in cui ho fatto una mossa e che ho detto ma cosa ti è venuto in mente di fare quella mossa lì cioè banalmente il fatto che io non avessi un altro top school in gioco ma avevo un Ogre Pond di troppo per esempio secondo me è stato un errore quello per esempio secondo me ho fatto degli error cioè questa qua secondo me non era una partita che dovevo perdere quella di prima non dovevo vincerla quella che ho vinto alla fine con Trench and Box questa secondo me non dovevo perdere secondo me l'ho giocato male però ci sta nel senso se prima partire con un mazzo il bello di questo gioco è anche questo ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo mazzo vi sia piaciuto è un mazzo che ho ho preso un po' ispirazione online come la maggior parte delle volte perché comunque ci sono un sacco di persone che giocano mazzi interessanti però l'ho modificato un bel po' e devo dire che secondo me ha del potenziale questo mazzo cioè testarlo bene giocarlo bene rifinire la lista secondo me è un mazzo che può dire la sua fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti ci vediamo presto ragazzi al prossimo video ciao ciao